Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Nelle scorse ore è stato pubblicato il secondo trailer di 65, film d'azione che vede protagonista Adam Driver, il quale dovrà affrontare dei dinosauri famelici in un mondo sconosciuto. Vi anticipo subito che la data d'uscita di 65 è stata leggermente ritoccata. Il film infatti arriverà nelle sale il giorno 17 marzo. Diciamo che da questo punto di vista il film è un pochino sfortunato perché è la quarta o quinta volta che cambia la data d'uscita, ma speriamo che questa sia a tutti gli effetti quella definitiva. Rispetto al primo trailer, questo secondo trailer ci introduce alcune piccole novità. Niente di trascendentale, non svela ovviamente tutto, per fortuna, però ci fa capire forse qualcosina in più. Per chi non avesse visto il primo trailer e la mia analisi, facciamo un celerissimo recap. La trama è davvero semplice. Adam Driver interpreta un esploratore, un marine, insomma un uomo dello spazio, che a causa di un guasto alla sua nave precipita su un mondo ignoto. Qui incontra dei dinosauri, o comunque delle creature simili a dinosauri, e al contempo deve salvare una giovane passeggera, l'unica altra sopravvissuta, o così pare, dello schianto. 3.000 peripezie dovranno fuggire prima che un altro evento traumatico colpisca il pianeta in cui si trovano, e questo evento traumatico sarebbe la caduta di un asteroide. Ora, nell'altro trailer abbiamo fatto alcune riflessioni sul fatto che questo pianeta, con i dinosauri, fosse o meno la nostra terra, appunto, 65 milioni di anni fa. Sì, lo so ragazzi, i dinosauri non si sono estinti 65 milioni di anni fa, 66, però questo è il titolo del film, e senza ombra di dubbio questa non è l'unica libertà scientifica che si prende, quindi, vabbè, non facciamo polemichette anche su questa cosa. Nell'analisi del primo trailer avevo tracciato vari scenari circa l'identità di questo mondo, se fosse appunto la nostra terra, una terra parallela, un mondo diverso, quindi bisogna capire se Adam Driver ha viaggiato nel tempo oppure nelle dimensioni. Da una sinossica emersa online di recente, abbinata a questo secondo trailer, si capisce che questo pianeta dovrebbe essere la Terra. La nostra Terra, resta ancora aperto il dubbio, potrebbe essere una Terra di una dimensione parallela alla nostra, e ciò permetterebbe agli autori di creare dei dinosauri un po', diciamo, liberi con la fantasia di mezzo. Ad ogni modo pare che il destino di questa Terra sia il medesimo della nostra, ossia all'incirca 65 milioni di anni fa verrà colpita da un asteroide, da un meteorite, insomma, che causerà un'estinzione di massa. Nel secondo trailer, infatti, vediamo degli oggetti infuocati cadere dal cielo e colpire quello che resta della nave di Adam Driver. Inoltre scopriamo che il personaggio appunto di Driver ha un obiettivo chiaro, che è quello di raggiungere una capsula di salvataggio. Quindi i nostri due protagonisti umani sono mossi da un obiettivo piuttosto lineare in questo caso, sfuggire a tutti i pericoli, raggiungere questa capsula e con essa lasciare il pianeta, tra l'altro prima che sia troppo tardi e prima che l'asteroide colpisca la superficie, e magari senza essere divorati dai dinosauri. E a proposito di dinosauri, nel secondo trailer li vediamo un pochino meglio. Vediamo alcuni dinosauri nuovi, ad esempio vediamo uno strano dinosauro, forse un posto sucus, che aggredisce la ragazzina. Vediamo poi uno stormo di rettili volanti, si vedono per pochissimo tempo, e tra l'altro in quel brevissimo lasso uno di loro viene anche attaccato da un altro rettile volante. È molto difficile capire a chi siano ispirati, o se siano dei rettili volanti, diciamo così, random. Vediamo meglio anche il predatore principale del film, quello che probabilmente sarà l'antagonista, diciamo così, ossia il simil tirannosauro o simil giganotosauro, insomma il teropode quello grosso. Ancora una volta è molto difficile capire di che dinosauro si tratti, e secondo me non bisogna nemmeno farsi questa domanda. A molti ricorda come Luke un mix tra l'Indominus rex e il vastatosaurus rex di King Kong e di Peter Jackson. E questa cosa ha senso perché sono due dinosauri di fantasia, che prendono elementi di dinosauri realmente esistiti, li rielaborano, li modificano, e così si ottiene un dinosauro predatore non coerente, non esistente, ma che fa comunque il suo mestiere. Credo proprio che questo sia il caso del predatore di 65. Lui inseguirà più e più volte i nostri umani cercando di mangiarseli in un sol boccone, ma non credo che verrà nemmeno mai classificato, cioè non penso che ci sarà Adam Driver con una Wikipedia di dinosauri che dice «Ah ok, è un carcarodontosauro, è un giganotosauro». Anche perché lui giunge, fortunosamente, su un pianeta che è ignoto. Questo fatto viene ribadito anche nel secondo trailer. Il computer d'assistenza che aiuta appunto il personaggio di Adam Driver ribadisce che sono in una posizione ignota, in un pianeta mai visitato prima. Quindi è impossibile che lui possa fornirci informazioni dirette sulla fauna di un mondo che non conosce. Spendiamo due paroline anche sulla ragazzina, perché la cosa comincia un po' a puzzarmi. In che senso? Nel primo trailer si vedeva che lei era una delle altre superstiti dello schianto, veniva trovata all'interno di una capsula che appunto l'aveva protetta dall'urto della nave. La cosa che mi fa strana è che lei non sembra conoscere l'inglese, cioè Adam Driver sembra insegnargli a parlare l'inglese e lei ha delle capacità di linguaggio davvero minime. Ora, può essere che appartenga semplicemente a un'altra famiglia linguistica, magari che ne so, spagnola, non lo so. O forse lei non è proprio originaria dello stesso contesto temporale e spaziale di Adam Driver. Magari lei potrebbe essere originaria di quel mondo in cui Adam Driver è arrivato. Lo so, è un po' complessa come cosa, perché se il film è ambientato effettivamente 65 milioni di anni fa, perché c'è una ragazzina lì in una capsula? Non lo so, la ragazzina non mi torna del tutto, ma credo che questo suo alone di mistero verrà risolto solo nel film. Anche perché il film esce appunto a marzo, quindi forse, ma forse ci sarà un altro trailer, ma forse mini trailer e niente di troppo ricco di contenuti. All'ogni modo questo secondo trailerino mi conferma le sensazioni che avevo avuto anche nel primo. È un film d'azione con dinosauri, dinosauri che giocano il ruolo dei mostri, e andare lì ad arrovellarsi sul fatto che siano scientifici o meno, semplicemente, a mio modesto parere, non ha senso. Non è un documentario, ma non è nemmeno Jurassic Park in cui almeno sono discendenti da dinosauri veri. Secondo me i dinosauri di 65 sono creature completamente fuori dalla nostra timeline, in un certo senso. Non sono ancora convinto che quella sia la nostra terra e questo sia il nostro passato. E anche se fosse ce ne faremo una ragione, nel senso non serve indignarsi per dei dinosauri random che giocano il ruolo dei mostri. Se si vuole approfondire la biologia, la psicologia, i comportamenti dei dinosauri, ci sono dei documentari fantastici in cui farlo. Non di certo un film di Sam Raimi con coinvolti i produttori di A Quiet Place, un film che giocherà anche sulla dimensione horror di queste creature. Insomma, è inutile pretendere da 65 chissà quale veridicità o chissà quale messaggio importante. La curiosità comunque resta davvero alta, anche perché secondo me ci sono due o tre questioni misteriose che vanno appunto chiarite. Una è l'origine della ragazzina, due è il contesto in cui ci troviamo, questa terra se è una terra veritiera o meno, e poi vedremo come si salveranno appunto dall'imminente apocalisse che sta giungendo e dalla furia di questi predatori agguerriti. Devo dire che questo film lo attendo alla fine, forse è uno dei film che attendo di più di questa prima parte di 2023, perché è un film che per quanto probabilmente non brillerà per chissà quale spessore, un po' di originalità ce l'ha. So che a molti ricorda Dino Crisis, Dino Crisis o come cavolo si chiama, però credo comunque che avrà una sua umicità e che possa uscire un film, per quanto appunto ignorante, anche piuttosto interessante. Vedremo quante specie di dinosauro tireranno fuori, appunto c'è questo predatore, c'è quel predatore secondario, c'è il simile raptor, ci sono i rettili volanti, sicuramente appariranno altre creature, e vedremo soprattutto la questione terra, che non nego sia la cosa più interessante. Spero appunto che le polemiche sul fatto che i dinosauri non sono come quelli realmente esistiti vengano un po' lasciate da parte, perché lo trovo davvero un po' sterile, facendo un paragone, se mi facessero un film ambientato in un passato, che ne so, nell'epoca degli antichi romani, e il film si prende numerose licenze, ma non è un documentario, non è un film che vuole ricostruire la vita di Giulio Cesare, è uno che viaggia dietro nel tempo e chissà dove finisce, se è a Roma o meno, da storico non me ne farei troppo un problema, è più fastidioso quando un documentario, una produzione che vuole, almeno nelle intenzioni, ricostruire qualcosa in maniera coerente, invece lo fa male prendendosi un sacco di licenze, quello è un problema. In 65 non credo ci sia minimamente la volontà di ricostruire il Cretaceo, quindi sarà un film d'azione, un film ignorante, un film con qualche mistero da scoprire. Tra l'altro faccio anche notare, proprio in ultimissima conclusione, che il mondo dove si trovano Adam Driver, appunto, i dinosauri, è un mondo un po' agitato, perché abbiamo geyser, si vedono anche dei tornado in lontananza, c'è questa asteroide, insomma è un mondo che non sembra proprio messo benissimo dal punto di vista della salute climatica e ambientale, ma vedremo se questa cosa avrà importanza, o vedremo se servirà solo ad aggiungere ulteriori minacce. Che dire ragazzi, io sono curioso, ribadisco, di vedere questo 65, ditemi cosa ne pensate voi di questo secondo trailer, e del film in generale, andrete a vederlo, vi incuriosisce, vi dà senso invece di disgusto, la sezione commenti è qui per voi. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no, attivate la campanella, solito supportare le mie creazioni, potete farlo attraverso la funzione abbonamenti, oppure Paypal e tipi link in descrizione, vi invito a seguirmi sui social, cercate Lorenzo Divus su Facebook, Instagram e TikTok. Vi ringrazio per l'ultima volta, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!